Un saluto a tutti voi da Targa Auto, io mi trovo a Pinerolo e sono in compagnia come di consueto con Enzo Saluzzo che rivedo con grande piacere, ciao! Ciao! E naturalmente con Roberto Gobin, ciao! Ciao Sonia, ben ritrovati a tutti voi! Naturalmente ci sono sempre tante novità qui da Targa Auto. Beh, la nostra azienda si occupa principalmente di vendita auto nuove, quindi auto nuove, auto d'occasione, vetture aziendali, chilometro zero, quindi venite a trovarci sicuramente qualcosa per voi. Non solo vendita auto ma anche tanti servizi che Enzo ci ricorda. Sì, noi possiamo proteggervi e tutelare il vostro acquisto, vi diamo servizi di noleggio a breve e lungo termine. Bene, competenza, trasparenza e tanta professionalità, seguite con molta attenzione la trasmissione. Bene, partiamo con questa Tiguan 2000 TDI, quattro ruote motrici, vettura chilometro zero a 42.700 euro. A fianco troviamo una Kia Sportage 1.6 CRD, 115 cavalli a 22.900 euro con solamente 42.000 chilometri. Una Renault Espace 2000 TDI, sette posti a 14.900 euro. E passiamo a questa Jeep Avenger in pronta consegna a 30.000 euro. Jeep Compass d'occasione 1.6 Multijet, lo proponiamo a 23.900 con solamente 70.000 chilometri. Qui troviamo una BMW Serie 1 114 a 19.500 euro, vettura veramente bella. A fianco troviamo questa Panda, chilometro zero, anche qui in pronta consegna a 23.900 euro. Siamo ora in casa Fiat con una 500X, sul nuovo lo aspettate un anno, da noi c'è ibrida, pronta consegna, soli 3.000 chilometri del 2023, 31.900 euro la nostra richiesta. Continuiamo con questa Panda 4x4 e un 900 Twin Air, 12.700 euro. Di fianco un Jimmy ormai introvabile, molto bello, ha solo 113.000 chilometri, 9.700 euro. Un Ford EcoSport e un 1.000 benzina, la nostra richiesta è 16.300 euro. Di fianco ho trovato ancora questa Audi che è una 3.400 benzina, lo Sportback, 11.900 euro la nostra richiesta, soli 116.000 chilometri. Si continua in casa Jeep con questo Renegade, un 2.140 cavalli automatico, 70.000 chilometri del 2017, 22.300 euro. Di fianco vedete questa Mito, è un 1.300 multijet dell'ottobre 2018, 84.000 chilometri, 13.500 euro. Abbiamo la gamma Dacia in visione, qualcosina in protoconserio possiamo trovarvi, e a dimostrazione che siamo multimarche potete vedere un Compass ibrido, un Renegade benzina, un Renegade 1.600 multijet, un Peugeot 3008 in pronta consegna e si continua con le nostre vetture d'occasione. Ne abbiamo un centinaio, quindi evite trovarci, troveremo sicuramente la soluzione che va bene per voi. E siamo in chiusura, che cosa ricordiamo Roberto? Vi voglio ricordare che tutte le nostre auto le potete rivedere sul sito, anche quelle che non abbiamo presentato, targauto.com e tutte le vetture possono essere finanziate oppure pagate in contanti con un finanziamento personalizzato. Meglio di così, che cosa ricordiamo invece Enzo? Vi ricordo che siamo a Pinerolo, acquistiamo il vostro usato pagamento immediato e aderiamo a tutte le campagne promozionali sul nuovo. Io ringrazio voi dell'ascolto, ringrazio naturalmente Targa Auto e naturalmente Linea La Regia.